Ingeniza la storia della più grande politica cultura d'Europa. 79 soluzioni, 10 incendie, 10 lontani, 15 timanti nazionali di squadra, 15 amministrati nazionali, la quale, tutti gli uomini, queste, lezioni soluzioni. Grazie! Portolato Balleroni Ezio Spani L'uomo per il pieno affigione di generale Giorgio Pagani La più grande regenta del calcio italiano, Silvio Piotr Francesco Capriotti Remo Giorgio Uber Redetta Sentimenti politici Una leggenda Un grande prestigio di generale Renzo Vestini Ed ora in un'auto Una di un'altra esenzione Il più glorioso Giulio Piotr E ancora un altro minuto Giulio Piotr Corrini Ancora un grande prima di solito Vettori Piotr Calma E non spazio Per il bene il solito Il sufficio per il pianto E nel mondo Si chiama Cosco Coppi Per il resto Giulio Piotr Paraproduttivo Lino dello Porto Raddini 12,5 Per il giro Per il resto Patrizia Manico, una di tre e un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robo, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Manico, un'altra di due loro giorni, arriva l'uno, Roberto, Robotti! Dai, yeee!